Il suo arresto, avvenuto una settimana fa, aveva suscitato stupore in un'Italia dove le cronache sono piene di provvedimenti giudiziari che spesso lasciano a dir poco perplessi i cittadini. Perplessità legate al fatto che la bilancia della giustizia spesso pare che penda più a vantaggio di chi commette reati di tutti i tipi che verso coloro i quali si difendono dai criminali. Così succede che una magistratura di manica larga mette in libertà delinquenti poche ore dopo l'arresto da parte delle forze dell'ordine. Stupore e perplessità a causa dell'età, 81 anni, e dello stato di salute della persona, in questo caso un noto avvocato alcamese, finito a San Giuliano. Ieri, come è giusto che fosse, i giudici gli hanno concesso i domiciliari e così l'avvocato Francesco Paolo Catalanotto ha potuto fare il ritorno a casa grazie all'istanza presentata dal suo difensore Nicola Gervasi. Ora, che leggi e sentenze vadano rispettate è sacrosanto, ma ci sono casi che vanno attentamente avagliati considerato lo status del condannato. Va sottolineato che quando la pena supera i tre anni si finisce in galera, ma chiaramente, caso per caso, va esaminata la posizione delle persone colpite dall'ordinanza di custodia cautelare. L'avvocato Catalanotto è stato condannato con pena definitiva a scontare una pena di tre anni e sette mesi per reati fallimentari. I fatti risalgono dal 2004. Il legale, all'epoca, è la presidente dimissionaria di una società cooperativa e avrebbe lo stesso avvallato i bilanci e con essi scrivono i giudici una serie di illeciti. L'avvocato Catalanotto, che in gioventù partecipò a tante battaglie politiche a fianco di Ludovico Corrao, è molto noto per la sua lunga esperienza forense, che ancora esercita. È un attento analizzatore delle vicende politiche locali e non. Un'ultima notizia. Una settimana fa a Pescara è stato arrestato un pensionato di 83 anni per una sentenza passata in giudicato. L'uomo, vent'anni fa, aveva rubato un cd in un supermercato.